oddio fra quanti protoni if you like me this video you will love me this life link in the description below allora voi immaginate raga per instagaming per la partner che ho con instant e per la sponsor che dobbiamo fare ragazzi devo mettere il loro logo giustamente a schermo ok quindi da domani e nella schermata off streaming presente la schermata off streaming avete presente qual è la mia? la mia schermata off streaming c'è scritto ora sono offline torna alle 17 come tutti c'è un problema di sta cosa e voi direte quale cazzo è il problema muso? il problema raga è che raga voi immaginate l'azienda che si vede il proprio logo in questa roba qui cioè il problema a fare il mio non è tanto raga mettere il logo è che effettivamente questa qui è la schermata è questo raga la schermata capito? la schermata che ho off streaming è questa ora sono offline torna alle 17 cioè tu mi stai dicendo che questo qui non è una cosa seria? oggettivamente raga è o non è? professionale questo qui raga ve lo dico io è un botto professionale mi fa vedere quanto lo streamer ami il suo lavoro dato che l'ho fatto personalmente io ho sprecato credo un'ora della mia vita per hello guys welcome to mozo tutorial in today's video i'm gonna show you how to level up your graphic design edit from this to this first of all we have to make this look more professional so you're gonna grab out yeah i'm gonna take this oh very beautiful maybe this i really like it i really like it second of i'm gonna e se l'ho leggita in formato male nice this is look more more professional mamma fra this is very professional raga ma quanto è professionale no come è più grande fra non paga così tanto no mi sa che ci serve un cappello bah abbiamo il cappellino ma fra ma perchè questa cosa mi fa così tanto ridere perchè troppo è fottutamente troppo fatto bene vediamo allora al massimo possiamo cambiare la faccia vediamo se c'ho un'altra faccia incredibile dov'è andri come si chiama andri scusate ma questa fra ma questa quant'è matta bra no fra allora fra così non vi preoccupate ragazzi questo qui la faremo molto meglio eh cazzo fra molto meglio già così ok allora abbiamo bisogno di capelli fra è fatto veramente un botto bene raga è abbastanza serio molto meglio ragazzi molto meglio sono tentato si si lo mettiamo in secondo piano fra lo sfochiamo un po mi piace perchè voi avete detto muso non è abbastanza elegante e ci abbiamo messo la cravatta il cappellino i baffetti un progione e il logo di stagaming perchè è lo sponsor di settembre quindi eravamo partiti con chissà cosa faremo questa sera e stiamo creando dell'arte possiamo mettere delle emoticon precise per il tifo quindi a seconda di se non erro quanti bit uno dona può usare delle emoticon speciali bro abbiamo fatto se volete la ritagliamo qui raga guardate guarda facciamo anche le cose professionali raga vi va bene? è orribile possiamo aggiungere tre emoticon altre tre emoticon per un totale di 25 altre due emoticon animate altre tre emoticon per i sub di livello 2 altre tre emoticon per i sub di livello 3 e possiamo aggiungere le emoticon uniche per i livelli di bit l'ho caricata il muso non lo so a chi facce voglio qualcosa di strano ma la faccia di axel non la volete? siete sicuri raga? raga facciamo una ammina dura con axel fra chi è? non so perché ho questa immagine nel computer non ho la più palli di idea non so perché ho un'immagine di shalom nel computer mettiamo un procione la mettiamo raga un procione così raga così come questo guardate che l'ho messa veramente precisa ma dobbiamo togliere il pavimento ma perché è così bella? mettiamo raga il procione più grosso però un po' più grosso tipo ci sta ci sta ragazzi come la chiamiamo raga questa emoticon? come la vogliamo chiamare? scogliattolo muso raccoon it's a raccoon inside a raccoon muson it's a muson no raga scusate ma guardate che roba bella e se facessimo così? vediamo se carica è bellissimo che entra che entra il procione a pulire comunque oppure vediamo voglio vedere con scuotimento raga come esce fuori no fra è bellissimo anche con lo scuotimento ma stiamo scherzando cioè guardate come esce fuori raga guarda quanto sta pulendo come la chiamiamo raga? come la chiamiamo? muson? si chiama muson raga si chiama muson it's a muson fra è bellissima chiedo veramente scusa tutti quelli che verranno invasi dall'emoticon più bella di twitch mondo it's a muson raga raga fermi tutti fermi tutti raga fermi tutti fermi tutti raga raga no no niente Katia Katia se lo può aspettare fermi prendiamo Tearless raga Tearless non se lo aspetterebbe mai ok? preparate tutti quanti il raccoon signori preparate il raccoon Tearless non si aspetterebbe mai una chat invasa di raccoon ok? ci siete? alla sua tuota ci pensiamo noi signore ci pensiamo noi no non li 36-35 beh raga sii sono confuso Muso che cazzo sta succedendo? sei tu il responsabile? vecchio scusami non mi venire a vedere non ho fatto niente Muso non mi faccio iniziare Muso unisci del canale ciao ciao chi stai? bene qual buon vento la porta qua non lo so sa mi sentivo la sua mancanza eh sa com'è vero cosa mi dice cosa mi racconta? beh noi le pulizie le stiamo fatte le pulizie? hai visto quanto è bello l'espressione vecchio allora avrei fatto anche le pulizie ma qua c'è una porta che va sistemata perché ho sentito un cigolino della madonna ero io lo so che eri tu buona serata buona serata ciao 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 è uno l'abbiamo preso signori abbiamo bisogno di un'altra persona ah no no fermi tutti vogliamo andare da un'altra parte a far vedere il procione? se la risposta è sì fatemelo capire fatemi capire che effettivamente lo volete ok allora scegliamo la nostra preda mollu 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 la chat è un po' vuota mollu dobbiamo pulire la chat signori no brah piano piano no regga no regga mancano due secondi ma questo ride si è accorto di muso bella raga chiedo chiedo humilmente perdona dov'è il musista fatemi vedere il muso dov'è il muso ragazzo sei basta via 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 muso che dobbiamo ancora fare quella partita a warzone ladies and gentlemen I'm here to tell you that we have the most beautiful emote in the world pulite pulite say nessuno ci sconfiggerà faremo pulizia con tanti puliremo tutto e ora ladies and gentlemen accogliamo con grande onore muso ho sbagliato a fare la lancio giro pulite